La Speranza Una gioia grande 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 avete rubato il cuore al Papa anche a me e il Papa è stato contentissimo di poter sperimentare con noi questa 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 questo essere chiesa questo momento di grazia che abbiamo vissuto Credo che tutti quanti dobbiamo esprimere la nostra gratitudine a chi ci ha preparato e accompagnato Io vorrei ringraziare di vero cuore Don Michele Bilardi e tutta l'equipe che ha lavorato insieme ai due vicari episcopali Don Enrico e Don Mario Ma vorrei ringraziare anche Don Francesco Mancini, Don Tino Lucariello e quanti hanno preparato le schede che ci hanno permesso di pregare e di condividere questo momento di gioia Sono veramente orgoglioso di voi, sono contento di avervi visto felici, vi auguro un buon ritorno a casa e auguro veramente che questa esperienza possa fruttificare della nostra vita semi preziosi di una testimonianza cristiana autentica Cari genitori, cari catechisti, state vicino ai vostri ragazzi e voi ragazzi abbiate il coraggio sempre di ascoltare i vostri genitori e di camminare come ci ha detto il Papa Proprio sull'esempio del santo ragazzo che è Carlo Acutis con quelle tre parole preghiera, testimonianza e carità E poi ricordiamoci le ultime parole che il Papa ci ha consegnato Il Signore ci ama e ci attende sempre Buon cammino, buon rientro a casa e buona vita, buona preparazione anche alla vostra crespa Tanti auguri a tutti, grazie, grazie, grazie E un caldo idolierò Oggi annunciamo la gioia Oggi cantiamo l'amore Tu ci accogli il Signore Per fare festa con noi Sei la speranza del mondo Stiamo al passo con te Gesù Un abbraccio cura la vita Un annuncio guida la storia Gesù Cristo Gesù Cristo è forza dell'uomo Una luce Si accende nel buio E tu sogno Realizzerà Oggi annunciamo la gioia Un annuncio guida la gioia Un annuncio guida